Allora il video che andiamo a fare oggi andiamo ad aprire una LOL Surprise Remix Hair Flip, cos'è il Flipper? Andiamo a vederlo Vederla, perdonatemi Avevamo aperto in passato un po' di tempo fa la LOL Surprise Remix di Kitty Queen Questa qui però è totalmente casuale quindi andiamo a vedere cosa troviamo al suo interno Allora 15 sorprese, da come ho capito sono ispirate diciamo alle LOL che suonano, cantano insomma degli strumenti Cioè suonano degli strumenti e cantano Questa qui è carinissima perché ha la batteria, mio padre è batterista quindi ci starebbe Però penso sia o rara o ultra rara perché c'è il contenitore che è oro Ma è oro? Penso che il contenitore è oro, meno male che l'ho scelta io e tu volevi scegliere l'altra Aspetta Non ci credo Non ci posso credere Calma, calma perché penso ce ne siano... ma c'è queste? Non c'è? Penso che ce ne siano due rara e ultra rara come al solito Quella che questa qui che a me sinceramente non dispiace Non so se sia rara o ultra rara Sì insomma abbiamo trovato una specie di lavatrice dorata ma magari fa meglio i panni È un giradischi Ah ok, che figura di cacca Eccolo qua È un giradischi Ah ok, no io pensavo... Ragazzi più che un giradischi potrebbe essere un fornello per il gas che ci somiglia Praticamente qua va il disco perché all'interno dentro appunto gli accessori della vambola c'è il disco E se noi mettiamo su questo appunto per il giradischi si sente proprio la musica Ok, noi invece il disco lo tireremo ai giochi olimpici Ah ok, no, ok, non è quella credo No Ok, non è lei purtroppo Abbiamo trovato Radical Qt Qua è il cd E credo che ogni lol abbia la sua musica Esatto Qui ci sono, credo, le parole della canzone, non lo so Potrebbe essere, penso di sì Vedere così, penso che sia così Andiamo a vedere la checklist e quali possiamo trovare appunto di lol remix Vediamo un po' Abbiamo dei declitterati Abbiamo stick queen e blue grass queen Ok Ah questa qui è quella batterista Glickle, oggi non riesco a parlare Abbiamo Nashville Soprano e alto Poi ci sarà basso Vediamo ecco la radical Qt Eccola qua Che sarebbe, urca Non è rara È ultra rara Abbiamo beccato proprio quella top Esatto Più fortunati di così non potevamo essere Poi abbiamo Bengal BB Questa secondo me faccia fare i salti Per esempio quelli ribalsanti Bangl Bangl Ecco poi abbiamo Roddy Questa è il nome di un topo Del rock club Rebel E poi ci sarà Rebrut Poi abbiamo Twisted Seas Classico nome da lol Poi abbiamo Superfly Questa sarà un PG volante E poi abbiamo Na 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 Questo è il pop club Questo è il mio club Noi abbiamo appunto trovato quella del pop club Dietro è fatto in questo modo Crew remix Eccolo qua Ok Questo è il 12 Peraltro se consideriamo che l'abbiamo anche pagata al 50% di sconto Beh più fortunati di così doppiamente Non potevamo esserlo Andiamo a vedere cosa contengono queste plasticacce qua Le bustine sono tutte gialle e nere Abbiamo un elastico per capelli Di quelli scrunchi Sì Quindi penso che andrà sui capelli Colore da carcerato Bianco e nero Bellissimo Bruttissimo Una biberon Un contenitore per il latte Esatto Vediamo il vestito Uh bellissimo Cos'è un ventaglio? Ah un vestito Ok Ma è stupendo il vestitino Bene Infatti i ventagli e i vestiti iniziano tutte e due per via Ok È bellissimo No vabbè c'è anche le mutandine Porcellina Vediamo il pettine Tutte le cose Il pettine Il pettine ok ok va bene Andiamo avanti a vedere gli altri sacchettini Cosa contengono Scarpe Ok come al solito minuscole Rosa Ah la basetta Ah la basetta Ah ok perché Ma è quella della barba la basetta La base ma va Questo è l'ultimo No Ok L'aceto per la chitarra Credo Penso Ci sia la chitarra Oddio Ma è bellissima Forma di cuore È stupenda Peraltro la mia forma preferita è proprio il cuore Quindi Sì carina carina Peccato che non si può suonare perché è fatta di plastica però Eh vabbè Va bene Adesso andiamo a vedere la lol Eccola qui la nostra No ma è bellissima Lol surprise remix Sì sicuramente più che è accettabile È carina dai Per essere ultra rara devo dire che È bellina Che merita merita Ecco Non potevamo partire migliore con questa vetrata Ciao ragazzi Ma aspetta Ah ecco Cambia colore Con il caldo Vedete Addirittura Ah Diventa tutto Bianco Vedete Vediamo se anche sul viso Cambia colore No Vabbè Comunque diventa tutta bianca Con Vediamo le manine No le mani no Soltanto I piedi Praticamente diventano tutti bianchi E Il costumino Sotto Questi appunto Vi faccio rivedere Sono appunto Tutti gli accessori Che abbiamo trovato Eccola qui ragazzi Vestita Radica Sì decisamente Gli stanno proprio bene Questi vestiti Ed è fatta Direi bene Allora il cd non suona Ma non so se sia un fattore Nel senso di bellezza Da tenere così O se suonava sul serio Non saprei Vabbè Comunque a prescindere da questo Noi abbiamo trovato lei Esatto In questo primo video In questo primo video In questa nuova postazione Che appunto Vi facciamo rivedere Che comprende anche questa parte Con il mobiletto Dell'Alex Bene ragazzi Poi in un altro video Vi farà lei vedere Anzi Perdonatemi Quel video È già uscito sul canale Quindi Lo Avete già visto Il video dove appunto Vi mostra Vi ha mostrato Tutte Le cose Della toilette Però Vabbè Questo video L'abbiamo registrato Prima di quello Quindi Però Va dopo Quello lì Insomma È un po' Ecco L'avete già visto Esatto Noi vi mandiamo Al prossimo video Ragazzi Lasciate un like Se vi è piaciuto Questo video E noi come sempre Ci vediamo Al prossimo video Ciao Ciao Ciao